Tu la vedi, Beppe Severnini, perché Renzi sei mesi fa ha fatto nascere questo governo PD 5 Stelle e ora in realtà lavora per farlo cadere. È una strategia chiara o è un po' confusa o arriva un po' confusa perché sta in Pakistan? Beh, se è chiara qualcuno, questo qualcuno non sono io, io non ho capito. È vero che la sinistra non da oggi, da sempre litigano come furiosamente. Pensate a quello che ha fatto Renzi e Enrico Letta, a quello che hanno fatto a Renzi quando è stato il suo turno di essere al governo, quindi è proprio un classico. Però quello che sta accadendo in questo momento mi sembra abbastanza semplice, non è una strategia, è un fatto che lui sperava ritrovare spazio al centro, lo spazio non l'ha trovato, i sondaggi concordi li danno circa il 4% e quindi continua a mescolare furiosamente le carte sperando che salti fuori un asso. Però quel mazzo siamo noi, il nostro paese, il nostro governo. Io sono d'accordo con Gianrico, è un talento politico. Quante volte l'abbiamo detto anche a 8,5? Eravamo qui con Renzi, in fondo l'abbiamo detto anche a lui. Ed è uno spreco, non è l'unico ma è certamente un talento politico. È molto difficile. Io su Corriere TV oggi scherzando ho detto ma in Pakistan devi andare a sciare, anzi deve perché gli diamo del lei. La betone non andava bene. Io dico, c'è una cosa importante, volevo sottolineare. Ma lì in Pakistan c'era solo la neve e le montagne speciali. Sì, è andato a vedere Imran Khan che è il primo ministro del Pakistan, c'era Aznar, c'erano altri personaggi. Lui per un ex capo di governo, non solo italiano, la vita fuori dai confini è molto gratificante quando hai lasciato l'incarico. Questo non c'è proprio dubbio. Però Imran Khan ha parlato di ski trip. Ha detto, sono qui per uno ski trip. Vuol dire un viaggio di sci, la settimana bianca. Allora, uno può andare a sciare. Però una cosa sola. Lui deve ricordarsi di essere un leader di centro-sinistra. Il leader di centro-destra può fare quello che vuole. Può andare sull'Himalaya e farsi portare sul picco con la gente che lo tira su, con gli schiavi di Sherpa e la gente grida bravo perché funziona così. Trump con l'elettore di centro-destra non va per il sottile. Applaude il capo se gli piace, qualunque roba, soldi, esagerazioni, eccessi, anzi si gasa. L'elettore di centro-sinistra non funziona così. Non capisce bene. E dietro la mia battuta, la betone no. È un momento molto delicato dell'Italia e tu sei in Pakistan. Non è una tragedia, però è difficilmente comprensibile.